Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video del mio canale. Allora, oggi loro due, Melania e Sara, mi faranno compagnia. Quindi, oggi giocheremo iMaiSci e no. Lì, nel computer, abbiamo le domande che voi ci avete fatto in direct su Instagram, che le abbiamo salvate tutte nel computer. Sulla lavagnetta vi lasceremo il nostro nome Instagram. Anche in descrizione ve lo lasciamo, così, per tutti i dettagli. Vabbè, iniziamo, vai. Prima domanda, io prima, prima, seconda testa, allora. Hai mai preso cinque in una verifica? Sì! Molte, molte. Vai, Elisa. Hai mai detto una bugia ai tuoi genitori? Sì. Molte, molte. Hai mai baciato qualcuno? No. Ah, no, sì, no, ma no. Che non è se ti imbocca, non è se... Eh, della guanta, certo. Ok. Aspettate, ora le domande ci saranno... Ci saranno due, le ultime due domande, perché lei ha pochissima memoria. Dobbiamo cambiare pagina se la compriamo. Aspetta che... Sopera, dove? Ecco. Sì. Allora, il link di Instagram ne lasciamo solo in descrizione. Sì, se ce la facciamo pure, le lasciamo. Allora, vai, allora, hai mai fatto un video falso? Su YouTube? No, no, no. Non mi ha mai. No. Tipo un playback che ti accantava. L'ultima domanda. Hai mai rubato in un negozio? No. No. No, esattamente no. Ok, vi lasciamo il link là, perché ci sta spegnendo il telefono. Quindi, a dopo, ciao, al prossimo video, ciao. Anche in descrizione? Sì. In descrizione, mi lascio.